Anche il presidente della conferenza dei sindaci della provincia di Roma per le aree Cassia, Flaminia e Tiberina, 17 comuni per una popolazione di circa 140 mila abitanti. Chiediamo al dottor Ottorino Ferilli, che tra l'altro è anche il cugino della omonima e famosa Sabrina Ferilli, come si interfaccia l'attività dei comuni della provincia romana con quella delle province di Rieti e Viterbo? Io credo che adesso in questa situazione così difficile dal punto di vista economico e sociale avere una struttura come questa conferenza dei sindaci che io mi onoro di rappresentare è oggi importante. È importante per non lasciare soli i territori nelle attività non soltanto legate all'emergenza ma anche alle attività di ordinaria gestione. Avere la possibilità quindi di rappresentare, di entrare anche per me nelle dinamiche degli altri territori e rappresentarle e cercare di confrontarmi con le altre conferenze dei sindaci, appunto come diceva lei di Rieti e di Viterbo, è importante anche per cercare di fare un'analisi completa, di fare un'analisi che va oltre i propri confini, oltre i propri territori e cercare di avere quotidianamente, costantemente un monitoraggio e una comparazione della vivibilità dei nostri territori, degli indotti economici, della situazione reale che le aziende e le imprese vivono sui nostri territori e legata poi soprattutto all'aspetto anche occupazionale. Come si rendono compatibili le attività di sviluppo economico con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente? Bisogna cercare di avere delle linee guida, ma soprattutto una cabina di regia sovracomunale che possa indirizzare e possa cercare di organizzare su tematiche di imprese e d'aziende che riguardano il possibile impatto ambientale, la possibile salvaguardia ambientale, anche perché comunque queste politiche portano di fatto un indotto economico, portano di fatto la possibilità di un abbassamento della pressione fiscale, portano la possibilità di allocare sulle nostre comunità e sui nostri territori occupazione. Però non questa tematica, che è una tematica che io capisco a tutti i livelli essere una tematica abbastanza delicata, ma bisogna essere seri, bisogna essere responsabili e cercare di guidare i comuni in una responsabile e organizzata gestione.